... Erano sul tavolo. Sembrano normali progetti. Prendiamoli, anche il computer. Qual è il mio computer di lavoro? Hai provato niente? No. Voglio un avvocato. Pensavo ci avesse rinunciato. Ma come? Il sovrintendente non le ha detto che lei ha il diritto di avere un legale durante la perquisizione? Lei ha il diritto di farlo venire qui. Ma non gli fa smettere? No. Perché io ho la facoltà di farli continuare anche senza la presenza del suo legale. Questa è una presa in giro. Lo chiami? Io non ho un avvocato perché io non ho mai fatto niente. Va bene. Vi sbrigate, ragazzi. Guardo anche qua. Sì, anche lì. Guarda bene. Ma basta! Basta! Fuori dalla stanza della mia bambina! Fuori! Avete capito? Fuori dalla stanza! Le manette! Ehi, devi stare calmo! Calmo, capito? Non devi urlare, ok? Dai, cammina, dai! Dai! twoали! Li